Sono a fare la spesa, sono a fare la spesa, una bella luce a quest'ora, siamo quasi finito l'inverno, siamo al doppio, allora ragazzi qua bisogna, qua bisogna fare un piano per cambiare, cambiare modo di comunicare. Allora, avete visto i miei interventi radiofonici, stiamo prendendo piede, siamo all'apice del successo, manca un pulsante, capito? Manca un pulsante, start off on, buona gara. Allora, quanto spendiamo oggi? 150, 160, 170, 180? Sono aperte le sfide. Comunque, niente ragazzi, qua bisogna lottare perché è pieno di haters, di troll, di gente che, poverina, non sa quello che dice, non sa quello che fa. E si permette di parlare, di parlare di cose senza senso, di fare discorsi insensati. Bisogna avere una coerenza, Pandino Club, Pandino Club 1, Pandino Gold, Pandino Live Show, Pandino Real, Pandino Club Real. Questi sono i grandi canali web, online, potete consultarli. Faremo una conta delle visualizzazioni a fine mese, a fine di questo mese. Faremo una conta degli iscritti. State pronti. Ci sono dei grandi numeri. Pandino Gold, ve lo segnalo, vi metto il link in descrizione. È pieno di video per voi. Pandino Gold.